...cocchine, gambele di Santa Margherita con capolanta di verdure e salsanacro-bolce per lei e una marinara di pesce in fogli con verdure croccanti. Buona continuazione. Dove vorresti andare a vivere? Anche a me piacerebbe Londra. C'è uno studio di avvocati dove potrei fare il campato. E poi la città mi faccia la visione. La città mi faccia la visione. Buonasera, signore. Antonio, ti presento Rory, la nonna di Edo. Emma, la conosci già? Salve, signora, come va? Un pranzo ecc...